Io sono pronto Roby Moreno Longo partita 5 a 1 avete fatto una grande prestazione doppietta di Aramu e di Diop che cosa hai visto tu dalla panchina? Sei contento? Ma eh sicuramente sono contento per la prestazione dei ragazzi perché comunque hanno fatto sotto l'aspetto della volontà, dell'abnegazione hanno fatto una prestazione assolutamente importante però purtroppo sai che gli allenatori sono a volte sono un po' pignoli e sono sempre alla ricerca di una perfezione che forse non ci sarà mai ma comunque bisogna ricercare l'approccio alla partita sicuramente poteva essere migliore perché nel primo quarto d'ora a 20 minuti il nostro gioco non era fluido come al solito, c'è stato qualche errore di troppo cercheremo le cause per capire se qualcuno sentiva in particolar modo la partita o comunque non è arrivato carico al punto giusto per cercare di evitarlo alla prossima gara Tre punti che fanno sicuramente morale e soprattutto vi avvicinano ulteriormente al Genoa che ha vinto tre partite su tre e pronti via per la prossima gol grosseto quali difficoltà ci possono essere rispetto a questa partita nella partita con il grosseto e se conosci il grosseto ma innanzitutto le difficoltà possono cominciare assolutamente da noi se pensiamo di aver fatto qualcosa di speciale dopo quattro partite pensare di avere la pancia piena perché arriviamo a questo match da imbattuti e da secondi in classifica potrebbe essere il primo errore che facciamo ripeto i miei ragazzi devono capire che il campionato è lungo la mentalità che ci deve contraddistinguere è quella di domenica dopo domenica senza stare a guardare la classifica dare battaglia a chiunque ci giocherà contro quindi questo è l'obiettivo arriva il grosseto domenica grandissima umiltà e cercare di fare la partita come abbiamo cercato di farla oggi grazie mille grazie a voi